Qual è il santo del giorno? Da che? Cadice. 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 Cadice, cadice o cadice? Cadice. 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 Grazie a tutti. Buongiorno, bentrovati cari telespettatori di Fano TV, eccoci qua come ogni mattina per la rassegna stampa, occhio ai giornali che sono già pronti sul nostro touchscreen, naturalmente in versione locale per il resto del Carlino e Corriere Adriatico. Come sempre facciamo, sfogliamo le principali notizie, facciamo vedere i titoli, ma naturalmente poi in edicola i giornali sono lì a vostra disposizione come sempre per approfondire gli articoli. Noi vi facciamo una panoramica di quelle che sono le notizie principali, però prima di fare tutto questo noi naturalmente vi regaliamo le previsioni del tempo e anche il santo del giorno che guardiamo subito. Vediamo qual è il santo di oggi, sabato 24 marzo 2018, è Beato Diego Giuseppe D'Acadice, il sole è sorto alle 6.03 e tramonterà alle 18.25. Giornate sempre più lunghe, giornate sempre più all'insegna anche della bella stagione. Allora guardiamo le previsioni del tempo, speriamo che questa bella stagione arrivi, siamo già nella primavera, ci stiamo lasciando alle spalle un inverno che possiamo dire sicuramente sotto tutti i punti di vista impegnativo. Guardiamo la previsione per oggi, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con prevalenza di schiarite nel corso della giornata, le precipitazioni sono assenti, temperature in aumento, venti moderati, il mare sarà da molto mosso a mosso, quindi il mare rimane ancora agitato. Domenica, quindi giornata di domani, vedete sulla costa il tempo sarà abbastanza variabile, quindi inizialmente poco nuvoloso con aumento delle nubi nel corso della mattinata e nuvoloso nel pomeriggio. Però vedete la simbologia delle gelate compare e quindi i fenomeni particolari sono questi, durante la notte e al primo mattino gelate diffuse soprattutto nei fondovalle e nelle zone in pianura. Quindi attenzione per la domenica mattina, se vi spostate per recarvi da qualche parte, per fare una gita, per fare una scampagnata, attenzione nelle prime ore del mattino. Le precipitazioni saranno presenti però dalla tarda mattinata con brevi piovaschi sparsi, in particolare nelle zone interne. Ma i fenomeni, dicono dalla protezione civile, sono in esaurimento stazionari, le temperature nei minimi e in diminuzione invece nei massimi. Quindi praticamente questa è la previsione per domenica. Vediamo lunedì, ecco come sempre, lunedì poi si presenta una bella giornata. Cielo inizialmente nuvoloso, in particolare nel settore centro-meridionale, schiarite sempre più ampie a partire dal settore settentrionale, quindi nel nord delle Marche. E nel corso della giornata la tendenza sarà al sereno. Solo nelle basse Marche, vedete, compare un po' di nuvole con pioggia. Le temperature però saranno in aumento. Le condizioni di miglioramento per il corso della settimana sono l'augurio con il quale ci lasciano quelli della protezione civile. Ce lo auguriamo anche noi, che questa tendenza al bello arrivi finalmente. C'è tanta voglia di sole, non ci siamo fatti mancare niente. Nevone, alluvione, bomba, ci mancano le cavallette e il satellite. Poi praticamente abbiamo fatto di tutto. Entriamo nei giornali, vi porto nel Corriere Adriatico. Arrestati e individuati dai, vi faccio vedere subito la foto notizia, i ladri che svaliggiavano i parcometri. Sono tre rumeni, un business in 54 parcometri ripuliti, un bottino da 100.000 euro. agivano dal nord al sud e sono stati incastrati dai carabinieri che li hanno assicurati alla legge. Poi vediamo anche l'altra notizia di Spalla. Si parla di mobilità green, mobilità verde, by sharing che arriva da Shanghai. A Pesaro ha lanciato il nuovo servizio che è stato presentato anche in Cina. L'obiettivo è né furti e né vandalismi. E poi di Spalla le promesse troppo vaghe e l'illusione di Italy First, l'articolo che riguarda soluzioni facili e difficili per mantenere una parziale giustificazione dei rimedi. Allora, vediamo anche nella pagina poi successiva, ecco qui, nella pagina in basso cosa riporta. Siamo a Urbino, patteggiamento per la lotta con Dogo e Cinghiali. A Urbino patteggiano in sei. Queste sono le notizie lanciate nella prima pagina. Vediamo appunto quella della cronaca. Stop ai ladri itineranti dei parcometri che agivano in tutte le regioni, nelle Marche, insomma anche e soprattutto in Emilia Romagna, Piemonte, ma anche al Sud Italia. Un bottino totale da oltre 100.000 euro. Dopo cinque mesi di detenzione stavano uscendo dal carcere, li hanno incastrati però i carabinieri di Osimo come agivano. Qui c'è tutto l'escursus e vedete anche nella cartina riportata qui dal Corriere tutte le zone dove lavoravano, quindi si spostavano al centro ma arrivavano anche nel Terramano. Sono appunto questi tre soggetti qui che sono stati riportati nel Carlino. Il dissesto idrogeologico, ne parliamo sempre anche noi nel nostro telegiornale, vi facciamo vedere tutte le piaghe del nostro territorio che sono veramente tante. Siamo a Pesaro dove c'è la strada dell'Altarello che è veramente chiusa. Rientreranno però le famiglie evacuate entro maggio il sopralluogo del comune appunto per far rientrare le persone isolate, vedete qui una foto della Frana in via Altarello. Naturalmente questo è il fronte come anche in tante altre zone. Poi via a rischio tra Fiorenzuola e Castel di Mezzo, un'altra strada appunto, la strada panoramica che continua ad essere su una sorvegliata speciale e quindi insomma sicuramente sono tanti i fronti sui quali sono impegnati i tecnici di provincia, regione e i vari comuni. Ed ecco qua la notizia del bike sharing, un bike sharing prendi la bici e lasciala dove vuoi dalle piste ciclabili al bike sharing, costo zero per il comune, ma la gestione è del gruppo Mobike Colosso che ha lanciato lo stesso servizio anche a Shanghai. Vedete qui le biciclette che sono in dotazione per questo servizio appunto per chi ama la mobilità verde e per chi ha a disposizione piste ciclabili anche ben percorribili e ben collegate. Sempre attenzione degli inquirenti e della polizia sul fronte dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Blitz antidroga al parco Miralfiore ancora una volta, insomma quello è sicuramente un luogo che tengono in grande attenzione sia carabinieri che polizia, guardia di finanza, tutti gli organi di pubblica sicurezza perché lì continua ad essere una zona di spaccio. Due distinti interventi appunto dicevo di carabinieri e polizia, tre giovani sono finiti in caserma. Ancora dalla Valle Foglia, argomento completamente diverso, si scalda perché qui partono in 20.000 gli amanti del rally e del drifting che oggi prenderà il via ufficialmente questa manifestazione. Le prove libere sono alle 15.30, poi apre Proto, Prototipi, Motard, a tutto gas, insomma presenti Graziano Rossi e Reggiani, due campioni del motociclismo anni 80-90. Andiamo nella pagina di Fano del Corriere Adriatico. Mascherin vice sindaco, ma è l'ultimo show di serie. Ha fatto una boutade in conferenza stampa, appunto facendo un po' di scompiglio nei primi minuti della conferenza stampa Massimo Seri, però è uno scherzo, è un fake, naturalmente l'ha voluta buttare in risata la notizia che insomma ci sia all'orizzonte un rimpasto di giunta, insomma e quindi qualche minuto di panico un po' per giornalisti e assessori presenti, però poi nella conferenza stampa lui rassicura l'ASET non si tocca e vedete qui appunto Massimo Seri e Samuele Mascherin presenti ieri alla conferenza stampa. Nelle altre pagine si parla appunto ancora di emergenza, emergenza di problemi legati al disciuglimento della neve, le acque, i campi che non ricevono più acqua e quindi sono dei mezzi acquitrini stagnanti e soprattutto garage scantinati che si allagano perché il mare non riceve, le fogne sono completamente intasate e qui siamo stati anche noi a farvi vedere le immagini molto eloquenti degli abitanti di Metaurilia che da 20 giorni con le pompe in azione per lottare anche contro il blackout che alle volte parte perché insomma l'acqua si infiltra, insomma sono veramente all'esasperazione e dicono appunto l'emergenza finirà ma una volta che finisce andremo fino in fondro, vogliamo vedere quali sono le ragioni per cui si crea questa situazione. Sul posto è arrivato anche Fanesi che dice condizioni non abbastanza gravi per richiedere l'intervento dei pompieri però intanto questa gente ha l'acqua dentro casa, insomma un motivo ci dovrà essere per cui quest'acqua non riesce ad andare via, non potranno arrivare i pompieri ma qualcuno dovrà pure andargli a dire qualcosa a sta gente. Allora la storica rivalità del campanile e questa è un po' l'asse portante di questo nuovo film di Harry Seccheroli dal titolo molto eloquente Fate Vobis con Simoncelli col quale ha stretto un suo delizio da tempo che l'ha scritto e l'ha sceneggiato insieme a lui e ieri è stato presentato alla stampa, il film sarà nelle sale da giovedì prossimo nel cast tanti attori delle compagnie di Ariatali, qualche nuovo inserimento e i soliti conosciuti insomma che vedete qui nella foto sempre ben collaudato questo questo cast lavora molto bene insomma vedremo faremo un po' di risate vedete qui i presenti alla conferenza stampa di presentazione di questo film. Dalla Valcesano si cambia completamente argomento si parla di sanità vedete qui nella foto Federico Talè il consigliere regionale del PD che ex sindaco di Mondavio che porta avanti la sua crociata per una sanità e per un assessore alla sanità dice abbiamo urgente bisogno di un assessore alla sanità e quindi Talè dice a Ceriscioli di fare un passo indietro bisogna accelerare e cambiare marcia e quindi Ceriscioli dovrebbe rinunciare alla sua delega alla sanità e darla a un assessore che porti avanti un progetto. Gli ospedali non sono tutti uguali Pergola unita al governatore dice rispetti il decreto Balduzzi presidio in una zona disagiata la battaglia di Pergola sull'ospedale il mantenimento del suo ospedale è una battaglia che continua ad essere portata avanti dal primo cittadino e quindi insomma vedremo quale sarà il destino di questo ospedale certo è che alcune zone un po' periferiche della nostra provincia che non hanno una viabilità sicuramente eccezionale raggiungere ospedali come Fano, Pesaro, Urbino non è proprio la cosa più semplice del mondo. La bora si inghiotte la spiaggia e accumulare detriti sull'arenile siamo a Marotta la bora di Levante vedete un po' che cosa ha combinato questi sono i risultati cataste cataste di legno e tutto quello che il mare il mare riporta perché insomma se il mare ce l'ha qualcuno ce l'ha buttato insomma basta andare sulle spiagge e vedete di tutto oltre ai rami e alle cose che riguardano il letto dei fiumi. Cambiamo testata andiamo col resto del Carlino lasciamo il Corriere Adriatico vi facciamo vedere l'altra testata che vi proponiamo tutte le mattine questa è la pagina di apertura dell'inserto la fotonotizia è rotatorie boom è quella di Borgo Santa Maria incomincia a essere una realtà sempre più sempre più concreta anche se gli abitanti non sono non sono proprio contentissimi almeno questo traspare dall'articolo mai visto un virus così potente si fa un tracciato anche di quello che è l'escursus influenzale però resta grave nel frattempo il 59enne pesarese il primario del pronto soccorso Dorico dice erano anni che non ci capitavano situazioni di questo tipo con ogni probabilità la donna non era vaccinata all'influenza miete vittime e insomma anche casi gravi e per ora la donna rimane ricoverata al torrette di Ancona e poi turbolenze nel PD vedete qui anche qui riportato le parole di Talè adesso ci vuole un assessore solo per la sanità turbolenze post elettorali nel nel PD e appunto in nove finiscono alla sbarra per la lotta dei dogo contro i cinghiali i cinghiali i dogo sono questi questi cani qui sono dei molossoidi sono dei la razza è il dogo argentino una razza prediletta per i combattimenti almeno quelli sicuramente quelli illegali da coloro che li fanno per la loro aggressività mai visto un virus così potente resta grave appunto la 59enne e in basso vedete le considerazioni anche che il direttore dell'ASUR Massimo Agostini aveva fatto anticipando un po' quello che sarebbe stato l'escursus è un ceppo diceva molto molto tenace e però contro l'epidemia qual è l'antidode appunto vaccinarsi dall'autunno scorso sono stati somministrati in provincia 65.000 vaccini eccola qua la rotatoria il sopralluogo a Borgo il semaforo a Borgo Santa Maria il semaforo è già stato archiviato la rotatoria elimina le file autisti naturalmente felici come dicevo i residenti un po' meno vedete i tecnici del comune che stanno prendendo le misure per vedere dove e come realizzarla nella pagina di Fano si parla di un fatto di cronaca un infortunio sul lavoro mascherato diciamo così da un incidente d'auto si trancia due dita nel molino ma si inventa un incidente d'auto un operaio non in regola era stato convinto dal datore di lavoro a fingere questo infortunio in un incidente stradale per coprire appunto le irregolarità poi l'operaio svela tutto e il datore di lavoro è stato condannato il processo e la sentenza c'è stata ieri e poi per gli amanti del canale Albani abitato e animato dagli anatidi buone notizie torneranno nel canale Albani compreso il Cigno Ugo e tutti gli altri che erano stati spostati per mancanza d'acqua vedete qui Giuseppe Curina l'agronomo che aveva inserito proprio davanti a casa sua alcuni esemplari creando così quest'isola un po' felice tanto amata da grandi apicini che era anche meta di pellegrinaggio di molti per dare da mangiare a questi animali per creare una piccola oasi e fu tacciato ingiustamente di essere stato lui la causa della moria degli anatidi per via della siccità solo per il fatto di averceli messi ma insomma il problema era la siccità non era il fatto di averceli messi comunque adesso per buona pace di tutti presto torneranno e quindi insomma si ritornerà a rivederli sguazzare nelle acque del canale al via il galà dei commercianti una manifestazione un evento che prende sempre più corpo due mesi di tempo per votare i negozi preferiti e il fanese dell'anno che sarà premiato il 16 maggio vedete il vincitore della scorsa edizione l'ormai famoso in tutto il mondo Stefano Furlani per i suoi sassi d'autore ma anche per essere un fautore insieme a tante altre persone della beneficenza verso i terremotati con Fano Cuore nelle Marche che fa tante iniziative anche a scopo benefico vediamo la pagina l'ultima che vi faccio vedere che parla di una manifestazione amatissima che è ritornata in grande auge ultimamente perché si tenta di riportarla ai vecchi fasti è la corsa delle bighe nella Fano dei Ceseri per Marchegiani l'assessore dice la Fano dei Ceseri va fatta completa 150.000 euro è il budget stimato per rifarla rivivere è un evento per cui il Comune è disposto a mettere la metà ora si cercano sponsor privati Etienne Lucarelli della Proloco dice dobbiamo anche verificare la disponibilità dei carri i tempi sono stretti quindi la si vorrebbe già da questa estate bene questa era l'ultima notizia che vi facevo vedere speriamo che la Fano dei Ceseri riviva una nuova primavera una nuova era per buona pace di tutti e anche per i turisti perché sicuramente era un bello spettacolo unico almeno nella zona bene grazie per essere stati in nostra compagnia o che i giornali termina qui naturalmente tornerà lunedì mattina puntualmente questo è il numero al quale potete inviarci le vostre segnalazioni oppure farci sapere di alcune situazioni particolari noi poi le verificheremo insomma siete i nostri occhi sulla città importantissimi per noi come sempre un saluto anche a tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta su Facebook grazie siete sempre più numerosi ogni mattina un carissimo saluto anche a voi come a tutti quelli che ci seguono anche in replica durante il corso della mattinata io vi lascio le vostre cose buon sabato buon fine settimana arrivederci grazie a tutti